per Napoli Inter, molto sicuramente si recupererà proprio quasi certo Mertens su Gabbiadini bisogna naturalmente vedere poi quello che sarà l'esito dell'esame strumentale Bene, Carlo, ti ringrazio tantissimo e voglio salutare mia moglie Sonia e il piccolo Tantiago Ciao a tutti i tanti che ti fanno per questa squadra che sono qui in Svizzità Carlo ti stiamo ascoltando dal ricamificio Orma ci puoi salutare, grazie a tutti, forza Napoli ci manchete beato, vi saluto con grande affetto ce ne andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con l'ultima parte di Porom Pompero però vi ricordo che alle 13 Radio Gol con Walter De Maggio l'intervista in letta e in esclusiva a Pepe Rena, a tra poco